Tutti presenti a casa Borsi. Il Novara Calcio al completo. Giocatori, Mr. Tesser, il direttore sportivo sensibile. L'addetto stampa Carlo Magretti. Accompangati dai responsabili del comitato Amore per casa Borsi, i ragazzi di Tesser hanno potuto ammirare l'edificio dall'interno. Una conferenza stampa tenuta dal direttore del comitato Roberto Tognetti è stata il fiore all'occhiello della serata. Tutti i presenti hanno firmato alla causa di casa Borsi rispondendo alle domande dei giornalisti presenti. Nor sempre fa nessun rulli loterati. Mercato si chiud hele grande potere. Tặt 2017 rispondendo delle nuove sulle 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 86 OCD battata San Kimmi e anche Pottende il Supreme La Hawissent 7 Grazie a tutti. 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 Un caro saluto a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.